Ancora successi e primati per la giovane atleta scense Alessia Friscia. Nella seconda giornata dei campionati italiani indoor di atletica leggera palo-olimpica ad Ancona, l'atleta della Gato Clesciacca ha ripetuto la posizione e la performance registrata durante la prima giornata di competizioni. Per Alessia Friscia, primo posto anche nei 200 metri piani, stabilendo il primato personale con il tempo di 28 secondi e 96 centesimi. Secondo il tecnico della nazionale Orazio Scarpa, l'atleta Friscia ha ancora buoni margini di miglioramento, a suo favore infatti gioca l'età, essendo ancora molto giovane. Ad Ancona, la fortissima Saccense aveva vinto anche nei 60 metri piani, in questo caso stabilendo il nuovo primato nazionale, fermando il cronometro a 8 secondi e 47 centesimi. Grande soddisfazione per le sue prestazioni ha espresso il tecnico della nazionale Orazio Scarpa, che la sta seguendo da vicino e con particolare interesse sportivo. E passiamo alla scherma. Nella prova abruzzese di qualificazione Fioretta e Sciabola ai campionati italiani assoluti zona 2, obiettivo raggiunto per gli atleti della discobolo sciacca. Nella gara di Sciabola maschile, che ha visto in pedana 104 atleti, Tommaso Rossi ai gironi ha ottenuto 5 vittorie e una sola sconfitta, e ha chiuso con un eccellente 34esimo posto finale, che vale la qualificazione agli assoluti del 10 marzo a Lucca. Nella sciabola femminile, la discobolo ha schierato la veterana Siria Mantegna e le cadette Maria Vittoria Rossi e le sorelle Sofia e Aida Figlioli. Per Mantegna percorso netto ai gironi e qualificazione ottenuta con un ottimo nono posto finale. Sofia Figlioli si è classificata al quindicesimo posto e anche per lei via libera agli assoluti. Una trasferta positiva con tre qualificati su 5 atleti in pedana, dice soddisfatto il tecnico Pippo Bullo, anche se c'è un po' di rammarico per Tommaso Rossi, che avrebbe meritato sicuramente un risultato più prestigioso. Prossimo appuntamento a Lucca dal 9 al 12 marzo, per Tommaso Rossi e Sofia Figlioli per la prova giovani e assoluti. Entrambi sono cadetti, ma si sono qualificati nelle categorie della massima serie. Per Siria Mantegna invece soltanto la prova assoluti, in quanto non rientra più nella categoria dei giovani. I tre incroceranno le lame anche con negli olimpionici che hanno fatto e fanno tuttora la storia della scherma italiana.